Passiamo alla politica. Il Comune di Bolzano, come gli altri comuni d'Italia, è in allarme per gli annunciati tagli del governo che metterebbero a serio rischio il proseguo di alcuni servizi essenziali per la popolazione. Già nel 2009 il Comune di Bolzano ha compiuto tagli per 10 milioni di euro. Nel consueto appuntamento ed incontro con i giornalisti del martedì, il primo cittadino Luigi Spagnoli ha preso in esame due questioni. Quella riguardante i preannunciati tagli del governo e l'avvelenamento dei tre pioppi ad opera di ignoti. Ma sentiamo proprio in merito al rischio tagli il primo cittadino spagnoli. Dovesse succedere che gli annunciati tagli del governo alle autonomie speciali avessero le dimensioni delle centinaia di milioni di cui in questo momento si sta parlando, per conseguenza al Comune di Bolzano verrebbero meno entrate per l'ordine di alcuni milioni di euro e questo per noi sarebbe certamente un grosso problema perché ormai abbiamo razionalizzato moltissimo le spese non ci possiamo più permettere di fare altri tagli. L'anno scorso abbiamo fatto dei tagli da 10 milioni di euro e abbiamo veramente sudato lacrime e sangue per poter mantenere i servizi in essere però se veramente dovessimo tagliare ancora ne risentiranno i servizi essenziali. Ed il sindaco si è espresso anche in merito ai tre pioppi bianchi monumentali di via Milano a Bolzano sono avvelenati dai gnoti con erbicida, alberi che la giardineria comunale ha dovuto tagliare. Si cercano ovviamente i responsabili ma intanto... C'è stato il danno e le beffe per il Comune che ha dovuto farsi carico del costo ma che ha dovuto anche sopportare il venir meno di una risorsa verde importante, di tre risorse verdi importanti. Però io credo che qui sia veramente un problema di degrado etico della nostra civiltà. La gente oggi pensa sempre di più a farsi giustizia da sola e questo è sbagliato. Non è possibile che la presenza di alberi che è sicuramente di interesse collettivo perché è un bene di tutti avere alberi in città debba essere sacrificata per l'interesse di qualche singolo che magari è allergico a quel tipo di pianta. Tutte le piante producono allergeni, ci sono persone che sono allergiche a tutti i tipi di piante però non è una buona ragione per farle sparire. Grazie.